ciao sono fabio de luigi e questa è la mia prima volta che partecipo a questa rubrica che si intitola è la mia prima volta i rockets questo denuncia una età i rock on the road again poi ho comprato outlanda zamur dei police che è stato il vero primo disco devo avere credo 16 anni 17 era estate e come tutte le brave persone che si ubriacano per la prima volta ho vomitato per la prima volta ho trovato in cose non mi ricordo cosa ho trovato ho trovato cose che mi riguardavano a proller ecco io ho fatto anche google alert non so se avete mai provato dove voi mettete il vostro nome e compaiono cose che ti riguardano e so che c'è un assessore del comune di ferrara che si chiama fabio de luigi perché mi arrivano notifiche continuamente del sull'assessore del comune di ferrara primo film era matrimoni di cristina comencini stiamo parlando del non so fine anni 90 un cane come adesso del resto dove sono le mie sigarette se entro cinque minuti non saltano fuori le mie sigarette io prendo e vado da doria big ignori perché poi era innamorato di doria big ignori eccetera sì il primo che mi dicono essersi arrabbiato parecchio fu miguel bosè si miguel bosè curi 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 verso l'accademia curi curi era una cosa del genere e poi piangeva molto spesso usando un cartellino per coprirsi con scritto operazione tronfio davanti alla faccia all'asilo è stata la prima volta ho raccontato una barzalletta le maestre hanno riso tanto e ho questo ricordo mio all'asilo in piedi su una sedia che continua a raccontare quella barzalletta per tutto il resto dell'asilo insomma pierino porta la sua fidanzata a fare una passeggiata ad un certo punto gli scappa la cacca e allora non può dire alla fidanzata che gli scappa la cacca e dice vado a raccogliere le margheritine parte per raccogliere le margheritine e va a fare la cacca dopo dieci minuti pierino non torna dopo un quarto d'ora non torna dopo mezz'ora non torna la fidanzata di pierino un po preoccupata dice pierino pierino dove sei e pierino risponde sono qui che raccolgo le margheritine